I don't want to miss a thing nella versione dei Pomplamos, libro della settimana, è arrivato quel momento. Oggi sono veramente contenta di potervi parlare di questo libro che ho trovato francamente meraviglioso e molto molto importante e molto utile. Sto parlando di Il mostruoso femminile, Il patriarcato e la paura delle donne di Jude Ellison Sadie Doyle, pubblicato da Arlon, direi non a caso. Un saggio che ripercorre l'idea del mostruoso accostato alla figura femminile. Vi leggo una frase giusto per inquadrare un po' qual è il punto della questione. Un mostro è un corpo che avrebbe dovuto essere sottomesso ma che è diventato una smisurata minaccia. Un mostro è una donna che si è sottratta al controllo dell'uomo. Questo è un po' il senso. Quello che fa Jude Ellison Sadie Doyle è recuperare alcuni fatti reali, insomma fatti di cronaca, omicidi realmente accaduti, e collegarli anche a una serie di film, libri, che in qualche modo contengono degli archetipi femminili di mostri, cioè di figure mostruose. Però facendo cosa? Andando a capire qual è la vera radice della loro mostruosità. Ed ecco allora che le tre parti principali sono legate a quelli che sono i ruoli classici della donna all'interno della società, quindi figlia, moglie e madre, e all'interno dei vari capitoli si cerca di capire perché alcune figure sono state considerate mostruose nel corso del tempo, sia figure reali, persone realmente esistite, madri di assassini, ma anche appunto madri che sono diventate madri, figli e mogli che sono diventate letterarie o cinematografiche. L'esempio insomma più semplice è quello della mamma di Norman Bates, di Psycho, ma ce ne sono molte altre. Addirittura si arriva a parlare di Jurassic Park e del dinosaura, se si può dire, insomma femminile che viene in qualche modo imprigionata e che in realtà poi non si riesce mai a eliminare davvero se non fuggendo, che è quello che poi accade ai protagonisti di Jurassic Park. Ma ci sono molti altri esempi, si va da Twin Peaks, quindi da Laura Palmer, a anche esempi diciamo più, ancora più pop, come le creature mostruose, le dè, le fate e Megan Fox addirittura in Jennifer's Body. Ci sarebbe veramente tantissimo da citare dal libro e insomma chi mi sta guardando in video vedrà che, anzi chi mi guarderà, in video vedrà che praticamente ho sottolineato, ho fatto orecchie, le maledette orecchie praticamente dappertutto. Insomma però questo ci fa capire, questo libro ci fa comprendere meglio quali sono i meccanismi del patriarcato, qual è il modo in cui il patriarcato rende quelle che sono delle realtà delle donne che in realtà poi sono state instillate dal patriarcato stesso, per esempio il fatto di essere una madre buona, una madre perfetta, una madre che mai in nessun motivo e in nessuna situazione potrebbe considerare negativamente il proprio figlio ed ecco che diventa un mostro, ecco che diventa per esempio un fantasma che perseguita tutta la famiglia, pensiamo anche al primo capitolo di The Conjuring, dove c'è proprio una sorta di fantasma femminile che non a caso va a colpire proprio la madre e incarna in qualche modo la paura che la madre sia cattiva, cioè che la madre in qualche modo possa non essere sempre affettuosa e meravigliosa e gentile nei confronti dei propri figli ma non solo questo, c'è anche la paura della pubertà per esempio e lei fa, inserisce ad esempio l'esorcista, dice cosa non è più simile alla trasformazione della bambina dell'esorcizio a quello che succede a un adolescente quando cresce, quando le viene la prima mestruazione, quindi insomma ci sono tutta una serie di riflessioni che vi faranno sicuramente vedere con occhi diversi non solo la realtà ma anche tutto quell'immaginario filmico e letterario che magari avete sempre avuto davanti agli occhi ma che non avete forse mai visto da questo lato, da questo punto di vista e cosa non scegliere musicalmente per accompagnare questo libro se non un esempio di mostruoso femminile molto molto affascinante che è, io mi riferisco soprattutto al videoclip di questo brano che però rimane ed è rimasto iconico, si tratta di Bad Romance e questa è Lady Gaga grazie a tutti grazie a tutti